Trote big, quindi attrezzatura top, da non sottovalutare. Quindi un filo, top di gamma, altissima qualità, XPS FC403, fluorocarbon 100%, che grazie alla sua invisibilità in acqua indurrà alla boccata anche la trota più indolente. E poi, grazie alla sua estrema resistenza all'abrasione, ci aiuterà nel combattimento per portare la trota a guadino senza doverla perdere. Abbinato ovviamente a un amo top di gamma, Isashi 10608N storto, che con le sue pieghe ci aiuterà alla rotazione della nostra esca. In questo caso, esche grandi, quindi amo grande, misura 4, per innescare tutte le esche siliconiche trabucco di grandi dimensioni. Nuova puntata di Lake Trout Academy, una puntata veramente speciale, lo vedete anche da quest'immagine, a caccia di big. Trote big, ecco la big, una delle big che siamo riusciti a prendere oggi a Lago Franzoni. Non perdetevi questa puntata!